La piattaforma è una piattaforma che, partendo dal basso, può avere un deployment di vari tipi, on-premise, cloud, su diversi sistemi operativi, quello della Essim, parliamo di sistema on-premise su Windows. Questa dashboard è stata pensata proprio per consegnare nelle mani del management uno strumento semplice, veloce e intuitivo per tenere sotto controllo i principali numeri aziendali. È interattiva, dicevo, per cui questa è la visione di macro vendite della Essim in tutto il mondo, ma se io voglio focalizzarmi in una determinata area geografica o solo un paese, che ne so, mi interessa vedere le vendite che ha la Essim in Giappone, vado sulla mia mappa, faccio clic sul Giappone e magicamente il sistema filtra tutti i miei dati sul Giappone. Grazie.